Educare i bambini per trasformarli in automobilisti modello del futuro è l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione messa in campo dalla polizia locale di Pavia nelle scuole del capoluogo, un progetto che si è arricchito di recente grazie alla diffusione nelle classi di una particolare guida sulle regole della strada. Beh assolutamente sì, già da piccoli bisogna capire che ci sono delle regole da rispettare nella vita ma anche soprattutto nella strada, ci sono delle regole da rispettare e c'è da imparare una disciplina e quindi noi abbiamo pensato di fare una buona cosa diffondendo, realizzando e diffondendo nelle scuole elementari questa guida, guida all'educazione stradale e alla sicurezza per i bambini. Ogni anno a fine gennaio, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, vengono diffusi dati relativi all'attività del corpo. Ad inizio 2023 il comandante Crocco e l'assessore Trivi avevano evidenziato un numero spropositato di incidenti in centro dovuti principalmente alla disattenzione degli automobilisti. Lo scorso anno sono state elevate circa 67 mila sanzioni per violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 9 milioni di euro incassati. Ma accanto all'utilizzo delle multe appare sempre più necessaria una politica educativa che guardi principalmente ai fruitori della strada del domani. Per questo motivo incontri e campagne informative nelle scuole sono lo strumento da continuare ad utilizzare. È una guida fatta di immagini, fatta di giochi, fatta di test. I ragazzini, i bambini delle scuole elementari potranno leggere, imparare e poi mettere alla prova quanto hanno imparato e quanto hanno appreso attraverso questa guida. Peraltro la polizia locale ha già iniziato, già negli anni scorsi, ha iniziato a fare i corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole elementari, simulando anche determinati percorsi, segnali stradali, facendo imparare già ai bambini delle scuole elementari quali sono le regole minimi da osservare. Le imparano da piccoli, le applicano da piccoli, l'augurio che ci facciamo tutti è quello che poi le applicano e continuino ad applicarle anche da grandi.